Approvato nel Consiglio Comunale di ieri 16 dicembre il bilancio previsionale 2021 di Figliene Incisa. Una manovra da quasi 40 milioni di euro messa a punto dalla Giunta Mugnai con l'obiettivo prioritario di rispondere ai nuovi bisogni dettati dalla pandemia. Sicuramente un passaggio molto importante anche perché è approvato in anticipo sui tempi previsti alla normativa e questo ci permette di avere uno strumento dinamico e flessibile già dai primi giorni dell'anno del 2021. Questo bilancio è soprattutto all'insegna della vicinanza e della prossimità alla cittadinanza in questo momento così complesso di crisi economica che sta seguendo l'emergenza sanitaria. Ci abbiamo voluto fortemente un bilancio 2021 che tenesse in considerazione e tenesse presente soprattutto l'emergenza che è in corso. Per questo abbiamo realizzato un bilancio che non ha aumenti tariffari, ci sono zero aumenti quindi su tutte le aliquote, le imposte rimangono invariate ma soprattutto restano invariate tutte le tariffe per i servizi scolastici che sono uno dei nostri elementi di maggiore vicinanza alla popolazione e grazie a queste tariffe potremo mettere in condizione tutte le famiglie di non subire, non sentire sulle proprie spalle il peso delle maggiori spese legate al Covid. Oltre ai servizi scolastici abbiamo voluto incrementare anche i fondi sul sociale, sono 2 milioni quest'anno gli investimenti in politiche sociali, oltre 200 mila euro in più rispetto allo scorso anno per essere vicine a quelle famiglie che stanno subendo le difficoltà della crisi, in particolare i contributi per l'affitto, per i beni di prima necessità e contributi agli indigenti. Un segnale molto chiaro che ha voluto dare l'amministrazione per stare vicina e prossima a quelle famiglie che hanno maggiormente sofferto questo momento di crisi. Capitolo lavori pubblici 2021 sarà l'anno del completamento di progettualità messi a punto nel 2020. Interventi che riguarderanno già a partire dal gennaio prossimo, il gennaio 2021, gli interventi sul centro storico di Figline con la rigenerazione e riqualificazione dei corsi Mazzini e Matteotti. Poi vedrà il via anche l'intervento di nuova illuminazione su piazza Marzino Ficino, oltre che la progettazione sulla nuova pineta del Puglia. Le opere pubbliche poi non saranno chiaramente soltanto queste, ci saranno investimenti per quanto riguarda la scuola, la scuola Leonardo da Vinci. Ci saranno poi interventi anche che riguardano gli impianti sportivi, lo stadio del Buffa e la nuova copertura della palestra del Matassino. Tra strutture e viabilità con interventi riguarderanno la direttrice fra Figline e Incisa, con la realizzazione di rotonde che andranno a eliminare i semafri, quindi al fine di garantire un maggiore deflusso del traffico. Andranno poi a concludersi con la variantina e nei prossimi mesi, nel 2021, vedrà sicuramente la conclusione.